I prefetti hanno come compito istituzionale quello dei controlli, sovrintendono i comitati provinciali per la sicurezza. Quindi sono deputati proprio al coordinamento di un'attività di controllo sul territorio importantissima. La Regione con Union Camere si è assunta la responsabilità di andare a combattere la contraffazione che tanti danni sta creando alle nostre imprese e ai nostri posti di lavoro. Ora attendiamo che i prefetti ci sottopongano ulteriori modifiche e poi arriveremo alla firma di un protocollo che sarà veramente operativo per andare a lottare fino in fondo contro una piaga che è quella della contraffazione.